Riccardo però viene da sé la domanda, adesso sei fidanzato? Sì. Bene, da quasi quattro anni. Sicuramente se mi riguardo a come ero dieci anni fa non ce l'avrei mai fatta perché sono proprio cambiato come persona, infatti io quello che insegno non sono trucchetti o cose che una persona impara e replica pappagallo. Sì ci sono dei trick, qualcosina che si può fare migliorare però ti aiuto a capire anche come essere una persona diversa che non vuol dire attenzione, snaturarsi e creare una versione di te che non funziona ma è puntare sulle tue potenzialità sì ma applicando delle cose che funzionano. L'esempio di prima, se io mi curo nel senso non sono un adone, non sono magari palestrato eccetera però curo il mio aspetto, mi lavo, mi pulisco bene, mi taglio i capelli in un certo modo, mi vesto abbastanza elegante e mi metto una sana faccia da culo addosso nel senso che non me ne frega se mi rifiutano ma vado, approccio tranquillo. Prima o poi qualcosa ottengo ed è un modo di fare vincente. Ok ok vabbè giusto, è una visione attenta della persona, bisognerebbe dire tante 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 altre cose però è importante capire anche che appunto non diamo sempre per scontato che i ragazzi abbiano vita facile, riescano a conquistare e non si facciano problemi e soprattutto non abbiano quelle difficoltà che alcune volte diamo per scontato siano femminili. Il senso del rifiuto, l'insicurezza invece è giusto anche parlare di questo.